Ancora una volta stamattina stiamo ribadendo la stessa cosa, vogliamo l'intervento da Cardolo che faccia rispettare questa legge fatta dalla sua aggiunta, la legge 4 articolo 3 2011. Ci siamo stufati di aspettare, stamattina abbiamo brutte intenzioni, partendo io davanti, se non ci sarà una risposta e un tavolo tecnico, io stamattina con la carrozzina mi butterò in acqua.